È tornato a Lucca, sebbene nella collocazione provvisoria della Sala del Museo Nazionale di Villa Guinigi, il busto del Cristo Eucaristico di Matteo Civitali, trafugato dalla Chiesa della Rosa dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. L'opera è stata rintracciata dai carabinieri del Nuclo Tutela Patrimonio Culturale nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura di Lucca su un ampio traffico di opere d'arte rubate e rinvenuto presso l'erede di un antiquario lucchese, risultato estraneo alla vicenda. Era inserita nell'opera da ritrovare, un libro edito dal Ministero degli Essri e del Ministero dei Beni Culturali, dove erano state raccolte tutte le informazioni dell'archivio di Rodolfo Siviero e a distanza di anni, nell'ambito di una più articolata indagine che è stata diretta dalla Procura di Lucca, è stato possibile recuperare quest'opera, che è stata consegnata a metà dicembre alla comunità di sequestrata e alla diocesi e sulla base di quelli che sono stati gli accordi che sono intercorsi in quella data, oggi è presso questo museo, perché possa essere fruibile e appunto visionabile dalla cittadinanza, dalla comunità. Alla giornata di presentazione dell'opera era presente il direttore del Polo Museale della Toscana Stefano Casciu, il sovrintendente Luigi Ficacci, l'arcivescovo Italo Castellani, il sindaco Tambellini e il procuratore della Repubblica Pietro Sucan, che ha auspicato come questo ritrovamento possa essere un monito per tutti coloro che attentano al patrimonio artistico nazionale. Il procuratore si è anche augurato che la comunità e la politica mettano in campo un rinnovato impegno per il recupero di tutte le opere che ancora mancano all'appello. Il Cristo resterà nel museo di Villa Guinigi in attesa che terminino i lavori di restauro della Chiesina della Rosa, dove verrà collocato definitivamente.